Ciao a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo video di GTA 5 online Ragazzi oggi faremo un cazzeggio per le speciali di vacanze natalizie Per Capodanno e tutto il resto Se questo qua manchiamo se lo vado avanti va bene Ragazzi andremo appunto a fare un cazzeggio Si non l'ho già ripetuto ma l'ho ripetuto e quindi non lo devo più ripetere Scusate perchè sono stupido Allora qua vedo già due persone stanno qua giù a lottare come dei pazzi Quindi noi mo facciamo ragazzi ci scegliamo la carabina speciale personalizzata Quella che ho personalizzata di più e spariamo Ok ragazzi l'abbiamo presi Oh ma non eri già Boh Ragazzi proprio Vabbè Qua tengo tutto preparato No le bomba di si Sbam Sta sopra Non mi farò dire cose Vabbè l'ho ucciso ragazzi L'abbiamo ucciso Di solito quelli là con La maschera da scimmia sono fortissimi Cioè quelli che ho incontrato io erano più forti di me E ragazzi dato che non voglio perdere tempo con lui Cioè perchè poi è brutto ragazzi Se concentriamo un solo video intero a lui Cioè è un po' brutto Vediamo di rincorrere lui Però non ho tante bomba adesive Però vediamo di farcele sbastare Bomba adesiva bomba adesiva bomba adesiva Ok eccole qua Vi ricordiamo a questo qua Sulla minimappa ragazzi E lo No Mannaggia sto lag Mannaggia a te E a sto lag Vieni qua No vieni qua Vieni Ah tu vuoi scendere per andare da Munation Ma che cosa vuoi fare te Mi hai fatto sprecare Tre bomba adesiva solo per colpa del lag E dato che Ah no ma io tengo Sono ricercato Volevo entrare un attimo qua Ah ma qua sta Damiano Ragazzi sta Damiano qua con l'insurgent No Eh si con l'insurgent Eccolo qua Ecco qua Damiano ragazzi Ecco No Che cosa fai Vabbè l'ha ucciso Vabbè questo è l'importante Ragazzi entriamo dentro E vediamo di uccidere No aspetta 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 Si Era questo quello che volevo ragazzi E ora noi spariamo un attimo la police La fasciamo fuori E sbam E mo non so che cosa vorrebbe fare Ok sto facendo il giro Quindi andiamo ragazzi Su uno Su uno Sulla minimappa Però speriamo che Non mi uccidano Ok c'è un po' di lag direi E sbam ragazzi Subito ucciso Grande Damiano Grande Anche con un po' di lag Infatti ragazzi c'è Se sono andate tutte le persone E' crashata la sessione Non ci posso credere Ragazzi No No ragazzi Non ci posso credere C'è tutti ragazzi Bentornati No ma che cosa ho detto Ragazzi siamo spavati In una nuova sessione Perché come avete potuto notare L'altra sessione è crashata Qua sta venendo un insurgente Direi di sparare Ok va bene Non lo so se sono amichevoli Ok ragazzi Però ci sta sparando Quindi Di certo non sono amichevoli Dai Olè Ma che fa Sbatte col muro Ma dai però Ma cosa fa Sbatte col muro Ragazzi ho comprato Le nuove bombe Io mi voglio vendicare Di quel cretino Cioè ragazzi Soprattutto il mio personaggio Come al solito Ogni anno Sempre più scemo Anche quest'anno No Anche oggi E' stupido Non ci posso proprio credere Ragazzi Intanto Intanto Non è stato pure L'auto Mamma mia Ragazzi Non lo so Allora Intanto Mettiamoci tutte bene Le armi Ah Ma qua sta qualcuno No Sta giù Ok Ok Vediamo di fare così Non l'abbiamo ucciso Non l'abbiamo ucciso Sì l'abbiamo ucciso L'abbiamo ucciso Ok ragazzi Siamo vendicati L'abbiamo ucciso Con una bella tattica L'abbiamo ucciso Quindi ora direi Di andare giù Vabbè Se moriamo Chi se ne fotte Vabbè Non siamo morti Ok Non ci siamo fatti Neanche chissà che cosa Di danni Quindi prendiamo la nostra auto E Ragazzi qua però Sta Un sacco di gente Io tutta Non la riesco a uccidere Perché già faccio pippa Chiedo una pippa E tutto il resto Ma Non riesco a ucciderla Ok Qualcuno sta qua sopra No Sempre c'è te Allora Quindi Ma farei un attimo così Boom bitch Sparato Ah ma lui sta sopra Mannaggia Ragazzi Non mi voglio far fottere Come ho fatto lui a me Come ho fatto io a lui Vediamo un po' dov'è Eccolo Perfetto Ragazzi L'abbiamo ucciso Ok La c'è sta pippo Vabbè Facciamola entrare Ok ragazzi Ci sta una persona Lì Col cecchino No Perfetto Ragazzi L'abbiamo uccisa E là sta un'altra persona Ma se ce ne andiamo ragazzi Di sicuro sta col cecchino Io da lontano Non è che so Che so bravo Col cecchino Mi ha fatto Ah mi ha ucciso Vabbè però l'ho ucciso ragazzi Ok E' spawnato qua E' spawnato qua Perfetto ragazzi 2 a 1 Ok Ricompensa Killer Di psicopatici Psicopatici Ok sta là ragazzi Sta là col cecchino Dove sta Dove sta Dove sta Eccolo lì Eccolo Appena Si leva l'auto No Quella è Bobbo Natale Vabbè L'abbiamo ucciso E' spawnato di là E' spawnato di là Dove sta Dove sta Dove sta Dove sta Eccolo No Ok Ok ragazzi Siamo Oggi siamo abbastanza forti Dai Non ci possiamo lamentare Qualche feli ovviamente ci sono Uno si è messo in modalità passiva Ragazzi Di sicuro Non Non lo sfido neanche O faccio qualcosa Non gli sto neanche vicino Perché di sicuro Se la leva All'improvviso E mi fotte Quindi direi Questa qua non la buttiamo sotto Perché Insomma Stava già da Un munition Stava vicino a me E E non mi uccideva Ok questa è la polizia Vediamo dove stanno Allora Vediamo la polizia dove mira A terra ragazzi Stanno di là Ok ragazzi Stanno giù Stanno giù Stanno giù Ecco la polizia Eccolo Perfetto ragazzi Ucciso Ok Là sta qualcuno Con No Polizia di cacca Ti prego Scusami Mamma mia Eccolo No Dove stanno Ah eccolo Vabbè Non c'era neanche bisogno di sparare Non faceva niente Allora Tutto Tutto Oh Vieni qua Bello di zio Ok 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 Mettiamoci qua Ragazzi Stanno là Sta là Sta là Sbam Non l'abbiamo ucciso Sbam Non l'abbiamo ucciso Ma andiamo via Sta polizia ragazzi Perché ormai È una partitozza Che compare di qua Compare di qua Avanti Ok ragazzi Ucciso con Le bombe Adesive ragazzi Un colpo Veramente da Una persona Veramente Tanta tattica No ragazzi Ci ha fregato E niente ragazzi Spero che questo video Ti sia piaciuto Ragazzi Vi auguro Buone feste Commentate Condividete E iscrivete Per restare sempre Già nei prossimi video E noi ci sentiamo Al prossimo video Bella Ragazzi 70 like Prossimo Cazzeggio Feste